ciao popolo eccomi qua avete già visto dal titolo per cui sempre perché anno nuovo video sempre più corti oggi parliamo delle principali non di tutte pietre giapponesi naturali idonee per bisellare i nostri rasoi ma come al solito mi preparo tutto questo dopo la sigla eccomi qua allora video veloce ho intenzione di fare tre video dello stesso filone un video che riguarda quello di oggi le pietre da bisellatura un video che riguarderà invece le pietre da filatura vera e propria quindi il medio grit propriamente detto sto dicendo una marea di cavolate e alla fine il terzo video sarà solo sulle pietre da finitura quindi sempre perché voglio vedere di fare video sempre più corti partiamo subito entriamo subito in argomento pietre da bisellatura giapponesi allora a carattere generale le pietre più famose più conosciute io lo dico sempre ma continuo a dirlo non non hanno non devono la loro fama all'affilatura del rasoio l'affilatura del rasoio è un'affilatura di nicchia le pietre che nel corso dei secoli hanno hanno avuto più importanza hanno avuto più fama sono quelle più sono state quelle più rinomate in realtà si sono guadagnati i galloni sul campo sulla filatura di coltelli e strumenti da lavoro però ci sono pietre che per le loro caratteristiche per il loro tipo di abrasivo per il loro modo di lasciare marchi di affilatura per le loro durezze per la loro lavorabilità sono usate tranquillamente anche da noi che affiliamo di preferenza i rasoi anche sui coltelli vanno benissimo adesso soprattutto quelle che vi farò vedere accorgerete che sul coltello hanno hanno tanto da dire quindi mando alle ciance a scusate fatemi finire un attimo un discorso perché l'ho detto perché c'è tanta gente che non perde neanche cinque minuti a studiare un attimo a informarsi per bene che quando gli nomini certe pietre sgranano gli occhi no quella ma quella non è una pietra da rasoio quello una pietra da coltello no 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 non funziona così le pietre sono pietre che portano degli abrasivi punto poi a secondo delle caratteristiche possono essere utilizzate solo su un tipo di lama su tutte e due le lame o solo sull'altro tipo di lama ma ci arriviamo sto già chiacchierando troppo lo voglio fare corto allora pietre da bisellatura ovviamente non sarà una una carrellata esaustiva io parlo di quello che c'ho di quello che conosco perché parlare così in teoria tutti gli asini sono buoni per cui io parlo di quelle che ho a portata di mano la prima pietra che è stata qualche anno fa la pietra dello scandalo e la faccio vedere subito eccola qua la macusa anzi la voglio fare vedere un attimo su questa inquadratura così almeno si vede tutta quanta nell'interezza la vedete a macusa perché voglio cominciare con quella intanto per dare un ordine di grit partiremo dai mille mille due di questa pietra e arriveremo fino al 3000 quindi la la soglia del per passare diciamo dalla bisellatura all'affilatura vera e propria voglio cominciare con la macusa intanto perché c'è tanta confusione con 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 sulla nomenclatura amacusa bin sui gioco tre tipologie di pietre che non si possono manco definire cugine carnali sono proprio sorelle che vengono estratte esattamente dalla stessa cava la nomenclatura viene un po variata a secondo dell'estetica delle pietre per cui quella che porterà delle bande trasversali sarà chiamata torato quindi troverete spesso a catorato a macusa bianca buseros a catorano stiamo parlando di definizioni sull'estetica bintui alla famosissima bintui adesso tutti vogliono bisellare con la bintui bintui amusa bianca stiamo parlando della stessa pietra praticamente cambia leggermente l'estetica la bintui è più uniforme bianca con tanti puntini neri goma ma siamo lì vi faccio vedere una cosa ecco perché l'ho alzata la vedete questa forse non è ok però ve la rimetto sotto che poi verrà inquadrata meglio la sposto un pochettino questa pesa la vedete questa è la cugina carnale guardate un po amacusa bianca un mattone che non finisce mai adesso le metto una a fianco all'altro scusate anche che sono sporche perché io le pietre le faccio lavorare eccoci qua vedete aspettate cerco vedo di centrarle scusate per la sporcizia di di questa pietra adesso vi spiego il trucco questa la più grande la seconda che ho fatto vedere denominata classica amacusa bianca questa è una gioco ma vi rendete conto che stiamo parlando della stessa questa è il retro tanto per farvi vedere le stesse venature dello stesso colore le stesse macchioline aspettate un attimo il goma che se ci riesco provo a fare anche qualche cosa oggi di di un po più vediamo già già c'è primi problemi ok vediamo se riesco a farvi vedere alla cerchiamo di prendere una parte dove si vede bene aspettate lo so questo è il bello il brutto alla ricominciamo è il bello il brutto di fare le cose tutte quante in diretta perché io ve l'ho sempre detto e continuare a dirvelo io i video non li monto così come vengono registrati così ve li metto per cui se va bene va bene se va male va male quindi pure quando facciamo qualche video insieme sull'affilatura il risultato non è scontato non vado a prendere il risultato quello che mi è venuto meglio taglio cucio incollo il il video è tutto un unico file le inquadrature le cambio al volo le attrezzature le uso al volo e non sempre mi riesce bene comunque vi volevo evidenziare li vedete questi i puntini di gomma questi semini io io sono capace proprio con la penna a mano diventa il cima li vedete vi sto evidenziando magari delle zone dove si vedono meglio però se magari a sposti si vede meglio ancora ok vediamo un po da una parte di qua comunque penso di aver di avervi fatto capire guarda bene cerchio 1 ecco questi sono due gomma questi erano qua ci vuole la è così oggi ho provato pure la matita che i altri due gomma è chiaro che stiamo parlando della stessa pietra stiamo parlando dello stesso materiale della stessa densità dello stesso potere abrasivo quindi penso che ci abbiamo ci abbiamo perso fin troppo tempo sulla nomenclatura voi calcolate come al solito che stiamo parlando delle stesse identiche pietre allora ritorno un attimo su quest'altra inquadratura quella normale del piano di lavoro eccola qua quindi amacusa bianca gioago binsui sono stiamo parlando delle stesse pietre ho cominciato con questa perché perché è la pietra secondo me da bisellatura migliore che c'è primo è velocissima proprio velocissima basta una strofinatina sopra con una diamantata adesso più di qualcuno inurridisce ma in realtà va benissimo con la diamantata perché non stiamo cercando la finezza estrema qui siamo nella fase iniziale con la bisellatura vi potrei dire usate una tomo usate una nagura sopra per carità sbagliato non è ma ripeto non stiamo cercando la finezza estrema anzi stiamo cercando la capacità di taglio per cui sollevare una sospensione con una diamantata in questa fase dell'affilatura quindi in bisellatura non è sbagliato una volta fatta una leggera sospensione sopra la pietra parte è di una velocità impressionante capace di mangiare tanto tanto materiale in poco tempo la pietra è chiusa non ha porosità qui si vede un po più ingrandita quindi vedete che non ci sono porosità la pietra è tutta completamente perfettamente chiusa guardate un po di segnacci io le uso tranquillamente sia sui rasoi che sui coltelli una pietra veloce chiusa perché vi sto facendo vedere che è chiusa perché attenzione ci sono le amacusa rosse che sono un po più abrasive sono hanno un grit leggermente più basso qui superiamo di poco i mille lì non arriviamo a mille che però attenzione sono aperte sono a poro aperto per cui coltelli si ecco amacusa rossa amacusa rossa coltelli no e cioè scusa coltelli si rasoi no e oggi è partita così a proposito visto che sennò poi qualcuno dice anch'io sono un vip e mauro si è montato la testa no no cioè leggetevela tutta very important pensionato non è che me son montato la testa era solo una cazzata allora quindi secondo me questa è la pietra migliore tra le naturali per fare una bisellatura non vi mettete paura del della grossonalità noi siamo abituati con le pietre sintetiche di solito si bisella intorno con una sintetica da 3000 attenzione che 1000 1200 naturale non è aggressiva come una 1000 sintetica per cui lascia buoni marchi di affilatura non troppo profondi è veloce certo non sarà mai veloce come una sintetica però è una pietra che io mi sento di consigliare tranquillamente a tutti quanti penso che sulla sulla amacusa ci abbiamo perso fin troppo tempo si è arrivata a 12 minuti ma io un'altra 12 non ce li voglio mettere scusate cerco di di fare un po di posto perché sto sentito purtroppo la branca caverna è quella che è ho seconda pietra in salendo leggermente di grit ma ancora siamo intorno al 2000 adesso ve ne voglio fare vedere due e voglio cominciare da una piccola novità che mi è arrivata proprio ultimamente unica rasci pietra anche questa economica a fattor comune parlando di pietre grossolane da bisellatura i prezzi sono più che abbordabili il prezzo aumenta il prezzo diciamo che è proporzionale alla finezza della pietra sulle giapponesi naturali per cui pietre sono pietre ancora di basso costo benché le cave sono praticamente tutte chiuse per cui sono pietre che con il tempo saranno sempre più difficili da trovare ma diciamo che per adesso ce n'è una buona scorta quanto me ecco le amacusa le trovate dappertutto magari l'ikarashi che vi sto per far vedere eccola qua è un po' più una chicca io questa l'ho comprata poche un paio di settimane fa mi è arrivata forse tre no non mi ricordo per una particolarità non che ne avessi bisogno allora questa è leggermente più fine rispetto alla amacusa quindi diciamo che se la amacusa se la gioca la amacusa bianca se la gioca sul 1000-10002 lo so permettetemi il paragone osceno se no adesso bla 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 non si parla di grit sulle pietre naturali bla 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 lo sappiamo andiamo avanti lo sappiamo però uno deve dare un'indicazione di base non è che tutte le volte posso stare a fare ha similitudini lavora similmente a una pietra sintetica di grit ci ha detto un quarto d'ora solo per di cian grit intorno ai 2000 poi chi vuole capire capisce chi vuole fa polemica sti cavoli allora quindi una pietra anche questa dura chiusa scusate dure sono no non è dura guardate ve la faccio vedere inclinandola davanti al telefonino perché in questo momento la sto inquadrando con un telefonino quindi vedete non ha porosità ha un po' di range un po' di fiori ma il bello di questa pietra adesso ve la faccio vedere è una che una volta bagnata diventa verde smeraldo io quando l'ho letto ho detto mia io la devo provare guardate che succede vedete peccato che la che non è molto saturo di colore la ripresa mannaggia guardate mi dispiace proprio perché era uno spettacolo cioè vi giuro che per me è verde vediamo se l'altra vediamo se questa ha una risoluzione dei colori migliori guardate questa è asciutta la parte asciutta guarda la parte bagnata neanche questa rende neanche questa rende giustizia ma va sicuro che è verde forse un po' si riesce si riesce a capire e allora mi è messo fatto che la pietra diventava verde una volta bagnata ma vabbè a parte l'estetica che comunque sulle pietre giapponesi sapete che è importante scusate asciugo un po' che ho fatto un macello quando l'ho alzata allora eccola qua qui cominciamo a salire di grit per cui questa potrebbe essere una pietra idonea intanto continuo a farvela vedere questa potrebbe essere una pietra idonea a chi magari non vuole azzardare sul rasoio delicato su un rasoio a cui tiene di più non vuole partire da grit troppo bassi o non ha necessità di partire da grit troppo bassi per cui dicono vabbè perché scendere a 1000 1200 io parto da un 2000 eccola qua carina carina non mi ricordo mai come no come inquadra il telefonino così perché sennò poi vi metto c'erano cange anche su quest'altra parte che chiaramente sono andati via con la lappatura oh mi raccomando queste sono pietre morbidine qui la lappatura è importante è importantissima attenzione alle lappature delle pietre tutte le pietre vanno lappate e lo sappiamo però ricordatevi che la lappatura diventa tanto più importante quanto più è morbida la pietra perché una pietra non perfettamente in piano con delle piccole asperità rischia che il passaggio del rasoio queste piccole asperità facciano impuntare la lama e quindi procurando danni piccole scheggiature cippature eccetera eccetera quindi più è morbida la pietra più va manutenzionata spesso il piano d'affilatura deve essere sempre perfetto piatto senza asperità altrimenti ripeto è facile che la lama del rasoio c'entri dentro e chiaramente tra pietre e rasoio vince la pietra si fanno si fanno danni per cui la faccio rivedere un altro po' vediamo se riesce a mettere a fuoco no non riesce a mettere a fuoco non ce la faccio ragazzi quindi la messa a fuoco vi tocca con questo qui la messa a fuoco è migliore quindi questo è unica rasci vedete anche dalle varie scheggiature no vedete la grana come uniforme anche all'interno della pietra questo è un segno un resto di colla che dovevo togliere però dico perché tanto al lato posteriore quindi i carasci dopo la macusa bianca la binsuio la giuago che dir si voglia i carasci intorno al 2000 questa è un prezzo medio diciamo cominciamo a salire non è economica come come la macusa però ancora siamo su dei livelli più che accettabili ecco soprattutto se uno si accontenta nelle misure questa è una pietra di ottima lunghezza però molto molto stretta ma se uno ha un po' di manuccia riesce a comprare con 50 60 70 euro anche un esemplaretto di nicchia come questo certo se poi volete lo straccio 25 cm per 10 è chiaro è ovvio che i costi salgono quindi andiamo a mettere via anche i carasci arriviamo alla terza pietra da bisellatura che vi voglio fare vedere ve la faccio vedere prima su questa da questa inquadratura e poi la metto sul tavolo una grande nakura voi calcolate che come se fosse scusatemi lo so che queste cose non si fanno ma a me dava fastidio allora calcolatela come se fosse una grande nakura perché la consistenza più o meno è quella leggermente un peletto un peletto un po' più dura di una nakura classica di una sanoshino nakura ma questa è vediamo se ancora si legge eccola qua questa è una ioto ve la faccio vedere qui sul tavolo sul piano di lavoro eccola qua questa ripeto per fare mente locale consideratela una nakura come consistenza e anche come struttura se guardate se guardate qui le parti scheggiate vedete che anche qui all'interno la grana è molto molto uniforme non c'è stratificazione sembra veramente un bel pezzo di parmigiano tutta molto molto uniforme ve la faccio vedere bene qui non c'è da evidenziare niente solo magari queste piccole queste piccole crepe allora vedete sono molto molto superficiali quindi non non incidono assolutamente eccola qua non incidono assolutamente con con il risultato finale allora ritorniamo un attimo alle inquadrature quelle normali tanto qui non c'è nulla da evidenziare ioto siamo sempre sul 2000 intorno al 2000 e gritte è chiaro che c'è una variabilità da esemplare esemplare insomma mentre ecco una cosa che mi sono scordato di dire mentre le amacusa sono bene o male uniformi per cui sono tutte tutte le binsui stanno sui 1000 1200 di gritte ripeto o gioago che dir si voglia o amacusa bianca propriamente detta nelle altre pietre che vi ho fatto vedere quindi nell'icarashi oppure in questa ioto comincia a esserci una certa variabilità per cui come si fa a riconoscere non le riconosci ti devi affidare all'onestà del venditore quindi queste sono pietre che vanno prese vanno comprate da persone di cui avete fiducia è un 2000 mediamente però può scendere da 1000 e può salire a 3000 quindi se ai fini della bisellatura non cambia molto scusate ragazzi mi dovete perdonare raschetto in gula a vecchiaio quindi ripeto non cambia nulla ai fini della bisellatura però se voi cercate una pietra particolare cercate un modello si modello un esemplare più fine o un esemplare più grossolano vi dovete affidare alla descrizione di di chi la sta commercializzando questa in realtà 2000 edu come una 2000 si è si è sempre comportata ragazzi non so che fare poi non c'è un pan neanche niente da bere speriamo che non dà fastidio non dia fastidio più di tanto vi stavo dicendo ah cosa che mi sono scordato per dire le altre due vedete chiacchierando se vede che non me le preparo mi vengono in mente così una cosa che non ho detto cioè che ho detto della macusa ma non ho detto delle altre due è la velocità la macusa è velocissima anche questa usata a fanghiglia è molto molto veloce l'Ikarashi è forse un'antichiettina termine tecnico antichietta è forse leggermente più fine l'Ikarashi rispetto alla Ioto almeno in questi due esemplari che io ho però la Ioto la batte nettamente se parliamo di velocità quindi l'Ikarashi lascia bei marchi di affilatura lascia un filo che è quasi pronto si potrebbe azzardare direttamente alla finitura però è leggermente più lenta la Ioto invece è veramente veloce forse forse siamo a livello forse siamo a livello della macusa qui ho una prova comparata non l'ho mai fatta però va sicuro che anche questa usata a sospensione fa impressione perché è bianca candida vederla subito diventare nera vedere una fanghiglia piena di limature nera risalta ancora di più fa veramente impressione quindi secondo me questa è un'altra pietra da prendere in considerazione se qualcuno si vuole divertire a bisellare sulle naturali giapponesi ecco questa comincia a costicchiare un po' di più ripeto ancora non è proibitivo il prezzo però costicchia perché perché è difficile da trovarle non per la qualità eccelsa che comunque è ottima però qui qui è difficile trovare degli esemplari ripeto sono cave chiuse ormai da molti decenni qui il mercato offre pochi esemplari per cui il prezzo viene condizionato ecco dalla facilità dalla poca facilità di di reverirle ma comunque è una pietra che se vi dovesse capitare e gironzonando sui vari siti specializzati o annunci su ebay non so voi dove siete soli di prendere le pietre è una pietra testata perché tutto quello che io vi dico l'ho sempre provato con mano è una buona pietra da bisellatura dopodiché scusate da tutte queste ghiacchie era una spilpettata ci vuole dopodiché finisco con quello che io considero o la fine la pietra più fine da bisellatura o la prima pietra che entra nel campo dell'affilatura vera e propria una pietra storica una pietra che ha un passato molto ben documentato una pietra che in Giappone ha avuto successo nei secoli scorsi grosso successo ripeto parliamo sempre di coltelli e strumenti da lavoro quindi strumenti da fare chiameria soprattutto anche strumenti per la campagna agraria chiacchieriamo poco la auto la auto qui già ecco cominciamo a salire questo è un 3000 naturale 3000 naturale per cui lascia marchi di affilatura molto più aggraziati più dolci del 3000 sintetico è una grande pietra è una pietra che si che è stata prodotta è stata estratta da un paio di miniere non c'è stata solo una miniera che ha prodotto questo tipo di materiale anzi ve la faccio vedere la faccio vedere un po' più da vicino vedete l'ho un po' sarà pazzata con i coltelli ultimamente chi c'è rimasto vedete il piano di lappatura chi c'è rimasto ancora uno sbaffo del vecchio kanji non l'ho lappata da perfezione ma voglio fare vedere anche gli errori perché ecco forse da questi piccoli errori si capisce ecco andiamo su scusate andiamo sull'altro sull'altra inquadratura quello che vi stavo facendo vedere è questo la vedete allora qui c'è netta la linea che separa la parte lappata quindi questa è la zona lappata qui è rimasto il vecchio kanji quindi significa che non sono arrivato per bene a spianarla tutta perfettamente però 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 visto che un attimo che ricambio di nuovo inquadratura yuppie visto che la pietra è molto grande quindi ha delle dimensioni molto comode non sono state a perdere troppo tempo se non sono arrivato per bene eccetera eccetera questi segni sono assolutamente queste rigature queste piccole venature sono assolutamente non tossiche non non si sentono assolutamente sotto sotto il dito sotto la lama una cosa vi devo dire allora questa ripeto diverse diverse miniere da questa destratta questa è un onoyama per cui dalla miniera di aono una delle più classiche vabbè io dovendo fare l'acquisto più per collezione più per voglia che per altro voglio quella storica insomma quindi sappiate che tra le varie miniere la auto della miniera aono è una delle più classiche ce n'è un'altra altrettanto famosa ma in questo momento mi sfugge il nome ce l'ha un mio amico ma non mi viene questa è una grande pietra buona velocità è una pietra molto equilibrata buoni marchi di affilatura buona velocità di asportazione non è velocissima come le altre perché chiaramente qui il grit si è alzato per cui aumenta un po' la finezza e diminuisce la velocità c'è solo un piccolo problema punto a cui fare attenzione questa è una pietra bastarda se non è perfettamente piatta non vi darà mai il risultato che voi vi aspettate è una pietra che sente tanto la planarità per cui visto che sono pietre che si consumano abbastanza facilmente perché anche questa è una pietra abbastanza morbida qui siamo tra il 3,5 e il 4 massimo a secondo degli esemplari ma più sul 3,5 che il 4 diciamo che è una pietra che potete trovare da un livello 3 a un livello 4 ma sono pietre morbide sente stavo dicendo sente tantissimo la no la planarità la mancanza di planarità quindi attenzione che se la pietra non è ben lappata vi farà impazzire invece al contrario se la pietra è ben lappata allora tutto va bene tutto scorre bene la pietra abbrade bene la pietra prende bene sul filo il rasoio scorre bene e ecco questa o è una seconda bisellatura cioè questa o è una seconda pietra da usare in bisellatura o è una pietra con cui addolcire un po' i marchi di affilatura creati in precedenza e preparare il filo per la finitura ultima quindi diciamo io pure di preciso non saprei dove metterla se considerarla pietra come ho fatto oggi considerarla come pietra da bisellatura e metterla in questo gruppo o addirittura me la potrego portare nel prossimo video quando vi farò vedere le pietre quelle quelle che fanno il lavoro duro quella che fanno l'affilatura vede propria quindi quella che faceva il mediano di una volta quello che si faceva un culo così correva per tutto il campo e poi il passaggetto filtrante e l'ala la punta doveva solamente prendere la palla e buttarla in rete per cui grande gloria all'attaccante che aveva segnato ma in realtà c'era il mediano adesso beh poi è cambiato tutto e io non sono un grande esperto di calcio però in realtà era il mediano quello che si faceva gambe e polmoni per 90 minuti vabbè basta con la divagazione calcistica quindi oggi vi ho presentato quelle che secondo me a mio modo di affilare e per la mia esperienza perché io non vi parlerò mai di pietre che fisicamente non mi sono passate per le mani quindi ritornando non credo che riuscirò a farvele vedere tutte quante insieme provo a metterle tutte nella stessa inquadratura scusate forse forse ce la faccio eccole qua scusate c'è il mio faccione che cerco di levarmi un po' dalle scatole mi rimpiccolisco aiuto ecco come metto da sta parte dai allora quindi piccolo riassuntino zona 1000 1200 amacusa bianca Binsui Joaku è la stessa pappa sono tre sorelle cambiano le denominazioni per anche a secondo dell'estetica della pietra la Binsui è quella che si riconosce di più perché è la più uniforme delle tre è una pietra molto chiara in cui sono visibili solo questi famosi puntini i goma e attenzione che i goma sono sempre su tutte le pietre segno di velocità di taglio una pietra che porta goma è una pietra che taglia velocemente magari questo non è auspicabile su una pietra da finitura perché uno va a cercare non tanto la velocità ma va a cercare la finezza però sulle pietre da impostazione la grande presenza di goma è indice di ottima velocità quindi in questo caso ve la ripeto gioco pietra 1000-10002 pietra dura questa è la più dura dell'otto questa è dura 4 e mezzo diciamo non meno di 4 e mezzo almeno questo esemplare veloce lavora benissimo a fanghiglia anzi a fanghiglia tira fuori una velocità impressionante prezzo basso veramente basso perché sul mercato ce ne sono tante Icarashi pietra sfiziosissima qui saliamo intorno al 2000 e pietra sfiziosissima vi ho fatto vedere come cambia colore con con l'acqua adesso le bagno tutte ecco la macusa l'Icarashi che diventa verde ovviamente la Ioto non cambia assolutamente nulla e questa è la Oto essendo una pietra grigio scura con l'acqua tende più sul nero vedete quanto poco porosa come rimane l'acqua sulla macusa e invece come assorbe l'Icarashi guardate c'è già tante zone asciutte poco assorbimento d'acqua invece anche sulla Ioto lo so sul bianco è difficile da vedere però va sicuro è una situazione intermedia tra questo assorbimento e questo assorbimento quindi qui l'acqua ristagna abbastanza perché non perché è molto dura perché è molto compatta ha una grana molto molto densa continuiamo però Icarashi pietra decisamente più fine rispetto alla macusa marchi di affilatura più delicati più aggraziati a me devo dire che è piaciuta molto perde nel confronto in velocità non è una pietra particolarmente veloce però se uno vuole addolcire il lavoro fatto con con la macusa bianca va sicuro che che è un bel passaggio da fare poi Ioto quindi anche qui siamo tra il diciamo una media intorno al 2000 quindi qui ve l'ho detto ve lo ripeto nel riassunto c'è più variabilità le amacusa sono più standardizzate diciamo uno si aspetta meno variabilità di grit qui tra queste due c'è più variabilità tra esemplare ed esemplare sono tutte due mediamente intorno al 2000 di grit nel caso specifico la Ioto si può trovare più grossolana e leggermente più fine questa ma così tanto per notizia 2000 e 2000 potrebbe essere due cic non è che uno sta lì a misurare di quanti micron è l'abbrasivo insomma perché solo quello avrebbe un minimo di validità eccola qui la Ioto vedete anche qui una pietra abbastanza assetata questa è una pietra porosa qui saliamo ulteriormente qui siamo nella zona del grit del 3000 quindi vedete una pietra veloce una pietra non troppo dura anzi tendente al morbidino una pietra che ha una buona capacità di taglio non è velocissima come una magusa o come una Ioto ma comunque la possiamo classificare come pietra veloce è una pietra che lavora benissimo a sospensione anzi parecchi testi giapponesi consigliano di tenere la sospensione sopra la pietra di non ripulirla troppo spesso perché è proprio quella sospensione che dà quel qualcosa in più a tutto il processo di taglio è una pietra abbastanza scorbutica nel senso che ha bisogno di ottima manutenzione tende a scavarsi deve essere riportata in piano abbastanza spesso però va sicuro che se la pietra è ben manutenzionata è un'ottima pietra naturale per tutto quello che riguarda il grit basso da bisellatura per noi che affiniamo sui rasoi perché è chiaro che un 3000 sui strumenti da lavoro stiamo parlando su un coltello stiamo parlando di finitura questa viene considerata intermedia solamente nella lucidatura delle spade che ha bisogno di una scaletta molto molto lunga nella scala classica per arrivare alla spada lucida a specchio è inserita nei primi gradini anche anche la otto nell'affilatura dei coltelli da lavoro da cucina o degli attrezzi la otto è una pietra finale per noi per i nostri rasoi ovviamente la otto è una pietra di base noi i nostri rasoi li finiamo dagli 8000 10.000 12.000 quindi una pietra da 3000 per noi è una pietra da bisellatura ok ragazzi io volevo fare solamente un piccolo escursus bisellatura il prossimo video affilatura il terzo video finitura lucidatura delle lame speravo di farlo più corto sono arrivato a 43 minuti non ci volevo arrivare solo per darvi 4 nozioni di base sulle pietre mi dispiace cercherò di farlo più corto la prossima volta per cui adesso spero che a qualcuno possa essere servito servita tutta sta marea di chiacchiere spero di non avervi annoiato più di tanto per cui vi saluto il solito classico irrinunciabile ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video ciao popolo